Ciao ragazzi, ho appena finito anch'io di ascoltare per la seconda volta il nuovo corso Next Level rilasciato da Riccardo l'ho trovato veramente veramente interessante è un corso che sicuramente mi aiuterà a fare cassetto a cercare di guadagnare quei soldi che poi mi serviranno da accantonare negli investimenti a lungo termine cosa che già facevo anche con quelli del lavoro e quei pochi che sto cominciando a fare con il trading visto che non è tantissimo che lo faccio sicuramente il burattinaio classico e il burattinaio cripto aiutano tantissimo già da comprendere questo corso una cosa che ho trovato molto interessante che mi aiuterà a spornarmi è utilizzare TradingView io non lo utilizzo perché con il burattinaio classico utilizzo i G e non mi serve perché è già integrato ma con questo nuovo sistema almeno così imparerò un mezzo nuovo che sicuramente mi aiuterà a crescere e non vedo l'ora di cominciare appunto con la challenge mettere insieme i tasselli che consiglia Riccardo per partire nel più breve tempo possibile comincerò a fare la challenge e se brucerò il conto aspetterò il mese e poi ricomincerò ancora da capo mettendo via appunto i soldi che sono sicuro che in quel momento non mi servono nel senso sono destinati a essere persi che comunque sul capitale non mi comportano diciamo nulla grazie mille Riccardo è sempre una freccia in più per la balestra e ciao a tutti